Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Paola Marella, celebre volto di Real Time, il marito Domenico ha deciso di intervenire sui social per raccontare il percorso della moglie, tra chemioterapia recidive e una lotta strenua per tornare in salute. Oltre ai dettagli tristi, Domenico ha voluto sottolineare la forza d'animo di Paola, che non ha mai ceduto alla disperazione o al lamento, ma ha affrontato la malattia con coraggio. Secondo lui, è proprio questa determinazione che merita di essere ricordata dai fan della celebre architetta. Paola Marella è scomparsa improvvisamente il 21 settembre, lasciando un vuoto incolmabile per chi l'ha conosciuta e per tutti i telespettatori abituati a vederla in tv. Il marito Domenico ha deciso di spiegare le cause della sua morte attraverso un lungo messaggio su Instagram, sottolineando che le cure a cui si era sottoposta non erano legate a una recidiva del cancro al seno, ma a un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. Nonostante le numerose terapie e i viaggi intercontinentali per cercare una cura, Paola Marella non ha mai perso la sua determinazione e il suo sorriso. Anche pochi giorni prima della sua morte aveva condiviso un video su Instagram, dimostrando la sua forza e resilienza. Il marito ha sottolineato che Paola è stato uno sprone per tutti coloro che affrontano la stessa battaglia e che la sua luce continuerà a brillare nel cuore di chi l'ha conosciuta. La scomparsa di Paola Marella lascerà un vuoto immenso nella sua famiglia e nei telespettatori che l'hanno ammirata nel corso degli anni. La sforza d'anima e il suo sorriso resteranno un esempio di coraggio e determinazione per su coloro che affrontano la stessa battaglia e il suo sorriso di coraggio e il suo sorriso di coraggio